da 0 a più 52 mila euro. Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Ovviamente il portafoglio che vi vado a mostrare non ha reso una performance da più un milione per cento, d'altronde se prendiamo, matematica di base, lo 0 e le moltiplichiamo per un milione, sempre 0 otteniamo. Quindi si tratta piuttosto di un piano di accumulo, aver guadagnato il più possibile, aver risparmiato la cifra più alta possibile di questi guadagni e di mese in mese aver accumulato, aver investito nel mercato azionario. L'ho fatto tutto in 3 anni esatti, in quanto andavo a partire nel luglio del 2019, quindi 2020, 2021, 2022, luglio, sono esattamente 3 anni finiti. Partivo in maniera un po' differente, in quanto ora vi mostrerò i vari ETF azionari da me selezionati, su cui sto mantenendo un piano di accumulo, iniziamo invece sugli aristocrats, poi ho fatto degli aggiustamenti, mi piacciono di più quelli attuali. Ovviamente voglio spendere un po' di parole per farvi ragionare sul fatto che, secondo me, ora ti paghiamo un attimo, non è una gara sempre a chi fa più soldi, ad avere la cifra più alta possibile, sento a volte affermare, magari da parte di alcuni YouTube, delle affermazioni in cui si dice io investirò sempre fino a 80 anni, 90 anni, 100 anni, voglio diventare miliardario, di qua, di là. Ragazzi, nessuno ci assicura una vita lunghissima, purtroppo, di vivere fino a 100 anni o in super salute, non siamo immortali e la vita bisogna anche godersela finché si hanno forze, energie e voglia di farlo. Dall'altra, però, dobbiamo essere, oltre che cicale, anche delle formiche, in quanto è indispensabile assicurarsi una vecchiaia serena, poiché comunque le pensioni sono sempre più basse, ce le danno sempre più in là e qualcuno nei commenti giustamente scriverà sempre se le pensioni alla fine ce le daranno. Quindi, per non essere dei morti di fame, dobbiamo organizzarci e dobbiamo anche cercare di avere un tesoretto da parte per le emergenze, per far fronte magari a dei bisogni relativi alla salute, oppure per aiutare i nostri familiari, o magari per lasciare anche un lascito, per l'appunto. Quindi è sicuramente una buona idea. Secondo me, un portafoglio, quindi, deve avere uno scopo, ma uno scopo nella vita, lo scopo finale non è avere soldi. Lo scopo finale dei vari portafogli di investimento è avere delle cifre che ci consentiranno di fare determinate cose. Vivere di rendita, avere una buona pensione, mandare i figli all'università, comprare una casa, fare della beneficenza, non so, scegliete voi, ma lo scopo, il target ci deve essere. Perché è inutile ritrovarsi 80 anni, o già voglio dire 80 anni, 90 anni, centenari magari in uno spizio con una carrozzina, con le ruote d'oro, massiccio, oppure una bella tomba diamantata, non ha senso. Quindi cerchiamo sempre di rifletterci, di trovare un equilibrio. Infatti, probabilmente, può darsi anche che io a un certo punto andrò a interrompere questo piano di accumulo quando dirò, ok, la cifra è abbastanza cospicua, la lasciamo crescere per alcuni anni, godiamoceli anche questi soldi. E allora, adesso vi andrò a raccontare il tutto, non perdiamo più altro tempo e vado a condividere lo schermo. Dunque, signori, sto registrando in data mercoledì 20 luglio 2022. Più o meno quasi tre anni esatti dall'inizio del piano di accumulo. Come vi dicevo, c'è stata qualche modifica prima di trovare il giusto assestamento per quella che è la mia visione delle cose, per quello che è il mio profilo, quindi gli strumenti in termini percentuali e così via. E questo per ora è il risultato. Però è leggermente inesatto in quanto ho preso profitto su alcuni ETF e ho deciso di reinvestire in questi qui che state osservando. Ma ora vedremo anche le operazioni effettuate. Ma ormai è più di un anno, direi un anno e mezzo, che accumulo soltanto su questi ETF. Questo è il risultato. In tre anni, da 0 a 52.000. Quindi, i soldi messi, i valori di carico, 49.678, il valore di mercato, 52.000. È chiaro, uno legge solo un 4.71% e tuttavia dobbiamo tenere in considerazione due elementi molto significativi. Il primo, anzi direi addirittura tre, il primo è quello di aver comprato durante un mercato a rialzo, quindi mediato la maggior parte del tempo al rialzo, pagando sempre di più. Il secondo motivo è quello di aver innalzato la rata, purtroppo, durante il periodo di maggiore crescita, quindi quando era più caro rispetto a quando era meno caro. Sabo, ovviamente, per il primo semestre del 2022, non tanto per una mia visione del mercato, quanto, diciamo, essendo riuscito a impostare la mia esistenza per risparmiare di più, guadagnare di più, mi potevo permettere una rata maggiore, rata che sto mantenendo ormai stabile da diverso tempo e in questo momento non ho intenzione né di incrementarla, né diminuirla, quindi è sostanziosa, per ora per me rimane sostenibile. E quindi, diciamo che il guadagno è stato questo, per ora modesto, anche perché poi proveniamo dal peggior semestre, primo semestre, praticamente della storia, uno dei peggiori degli ultimi, il peggiore degli ultimi 50 anni, uno dei peggiori della storia. E quindi andiamo a vedere quello che è successo. Sicuramente qual è il fattore, secondo me, molto positivo? Quello di accumulare continuativamente, senza porsi troppi problemi, e magari anche alla fine di un mercato ribassista o depressivo, a un certo punto comunque avere una quantità di denaro cospicua. Quando il mercato riparte, possiamo far crescere una somma davvero importante. Voi immaginate che più o meno questo portafoglio era in parità o leggerissima perdita, durante i minimi toccati a giugno. Ora non so dove andremo. Però vi immaginate mettere magari 50.000 euro tutti quanti insieme, c'è uno ha risparmiato per tre anni 50.000 euro, e poi deve decidere di metterle mentre il mercato crolla, e vedere quello che accade. Non è gestibile a livello mentale, è veramente difficile, quindi è meglio accumulare, 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 e a un certo punto comunque uno del tesoretto se lo ritrova. Ma andiamo ancora avanti, vedete qui sono tutte le operazioni scaricate, ad esempio avevo qui xdev nel 2020, ora parlo a memoria, credo fosse un etf value, 2022, anzi 2021, ho scaricato, oltre a un po' di azioni, vedete qui, usdv, e udv, cioè è uno degli etf, praticamente aristocrats, che a me piacciono tanto, sull'Europa, e anche sull'America. Ma poi ho preferito concentrarmi sul Quality Dividend Growth. Ora andiamo a vedere poi insieme i vari etf nel dettaglio. Nel 2022, ad esempio, ho scaricato altri etf come un portafoglio, vari aggiustamenti fatti della serie, ormai da un anno e mezzo ho deciso che devo portare il piano di accumulo avanti su 4 etf, ora ne parliamo anche se ne avete visti 5, quindi poi a un certo punto con cui ho scaricato, ho preso profitto, è inutile per me avere un portafoglio pieno di etf, che magari poi non crescono neanche più, con delle cifre relativamente piccole rispetto a quelle che saranno su altri, preferisco concentrarmi su quei 4 strumenti, e vedere quello che combinano nel tempo, sono delle scelte soggettive. Guardate, io vado ad accumulare su questi 4, quindi quelli che vanno a quotare di più, diciamo come controllo di mercato in realtà, cioè nel senso più pesanti per ponderazione, c'è l'ultimo posto questo qui, partiamo dall'ultimo, vedete 4.600, quello che diciamo se la sta passando peggio, che cos'è? È l'etf sulla Cina, mi interrompo giusto un minuto per andarvi a spiegare qual è l'importo della rata mensile, per avere un quadro più completo di questo racconto, ad oggi si tratta di 2.500 euro al mese, destinata nel seguente modo, 1.000 vanno per il Quality Dividend Growth, e 500 euro invece è destinato ad ogni altro singolo ETF, quindi agli altri 3, per un totale di 2.500. Se qualcuno volesse sapere come mai sto andando a prediligere, il Global Quality Dividend Growth, semplicemente perché corrisponde il suo paniere, la sua filosofia di investimento, maggiormente a quelle che sono ormai le mie peculiarità di investitore. Sulla Cina, i CHN, non ho un piano di accumulo qui in questo momento, quindi diciamo così, delle quote prese ogni tanto, rimane lì, una parte sulla Cina me la controllo, magari durante i grandi crolli vado ad aggiungere delle posizioni, l'ho fatto quando addirittura con l'ETF qualche mese fa, l'ho condiviso poi sul canale, mi segnava un ben oltre meno 30%, allora ho messo dentro diciamo un'altra rata, lo tengo lì, ma non è la fetta grossa ecco. Niente, ci sono aziende a grande qualitazione cinesi, le conosciamo tutti, se siamo sui mercati, Tencent, Alibaba, Met1JD.com, China Construction, Ping, e così via, Baidu. Al quarto posto chi c'è? Al quarto posto abbiamo l'ETF emergente, famosissimo, il punto di riferimento mondiale, e quindi qui comunque vedete, già abbiamo diversi nomi che trovavamo nell'ETF cinese, perché se noi andiamo a vedere le aree geografiche, comunque la Cina pesa per un 30%, Taiwan 15, poi seguono India, Corea, Brasile, Arabia Saudita, Sud Africa, Messico, Tarania, Malasia, Emirati Arabi Uniti, quindi insomma vediamo qui le aree su cui siamo concentrati, e poi veniamo al pezzo forte del portafoglio, quindi proprio al core, che è sui mondi, diciamo mondi, il mondo sviluppato, globalizzato, quindi abbiamo nell'ordine, al più piccolo, al più grande, abbiamo il momentum, poi abbiamo il quality factor, e poi abbiamo il quality dividend growth. A di là della performance, sono state scelte anche i mali in tempi differenti, ci sono stati alcuni momenti delle piccole extra rate, insomma questa è la storia, questo è il risultato in questo momento sul piano di accumulo, e inoltre comunque sta performando meglio di tutti il global quality dividend growth. Quindi a livello di emergenti, scusate di sviluppato, sto portando avanti sul momentum, quindi va a livello globale, a investire su quelle aziende che si trovano in trend, e chiaro che durante le fasi di inversione di mercato, di cambiamento di paradigma, di inversione ad esempio magari dal growth al value e così via, questo ETF va a soffrire più del mercato, però poi entra in tendenza, nel senso se sarà l'epoca di alcuni comparti, di alcuni settori o delle value piuttosto che delle growth, si sarà posizionato e momentum e cavalcherà il trend, e quindi nel lungo termine andrà a sovraperformare il mercato, nel senso tutte nelle fasi bullish va a sovraperformare, nelle fasi belice sottoperforma un po', però se è vero che il mercato tendenzialmente a lunghissimo termine fa bene e aumenta, può essere un'idea quella di posizionare una parte dei propri investimenti sul momentum, andiamo a vedere un po' quali sono le prime posizioni in questo esatto istante, abbiamo ad esempio Apple, abbiamo Exxon, non ho mai visto Exxon ai primi posti, quindi insomma ha cavalcato quel momento sui energetici, poi è chiaro che a volte è anche un po' in ritardo, bisogna vedere se è un trend che si mantiene a lungo oppure no, comunque a livello statistico tutti quanti gli studi che sono stati fatti, vado ad affermare che dovrebbe essere una buona idea avere il momentum, era un po' che non lo leggevo ed è veramente pazzesca questa composizione, perché ero abituato a vedere i vari Facebook, Tesla e così via, invece mi trovo Procter & Gamble, Johnson & Johnson, United Health Group, veramente mai visto, era tanto che non lo leggevo, sono scioccato, AstraZeneca, Pfizer, Costco, eh sì, si è posizionato su quelle aziende che hanno reso di più all'interno dell'MSC World, dell'indice mondiale. Ora andiamo a vedere invece le World Quality, sempre all'interno dell'MSC World, qui il gestore va a estrarre quelle aziende più qualitative di altre, perché ricordiamo che vanno a ragionare questi indici sempre per capitalizzazione, allora magari cerchiamo di lasciare un po' fuori quelle che si capitalizzano tanto, ma hanno dei fondamentali un po' bruttini. E vediamo qual è il risultato in questo momento del Quality Factor, ecco ad esempio qui abbiamo Microsoft, abbiamo Meta, non ce l'avevamo prima nel momento, ma abbiamo Nike, Nvidia, è molto diverso, vedete? C'è una bella differenza, Visa non c'era, Coca Cola non c'era, e poi in questo momento passiamo invece al GGRA, che per come sono fatto io rimarrà sempre il mio preferito, è il Quality Dividend Growth, società altamente qualitative con dividendi costantemente in crescita, e qui abbiamo Apple, Microsoft, Rush Holding, Johnson & Johnson, Rio Tinto, vedete Coca Cola, Unite Health, PepsiCo, Broadcom, quindi diciamo delle aziende che troviamo un po' da una parte e un po' dall'altra sui due ETF precedenti, quelli importanti però che siano appunto qualitative, ma con dei dividendi, quindi diciamo queste qua sono le mie filosofie, a volte c'è un po' di ridondanza, altre volte adesso c'è molta differenza per quanto riguarda i portafogli, lo abbiamo letto insieme. Bene ragazzi, fatemi sapere nei commenti, non solo cosa ne pensate di quello che vi ho mostrato, so che insomma molti si divertono a vedere un po' i fatti dello YouTuber che seguono di turno, se sono affezionati oppure anche un po' di morbosità, ma al di là di questo, allora anch'io sono curioso, ditemi nei commenti cosa state combinando voi, quali sono le vostre idee, quali sono i vostri target, se vi piacciono le parole che ho speso all'introduzione del video, della serie, diamoci un target per quando siamo vivi e non per morire facendo il record di soldi messi da parte. Come sempre non esiterò ad aggiornarvi, per ora vado avanti col mio piano di accumulo come se non ci fosse un domani, anzi cosa dovrei diciamo sperare io, adesso non mi avete visto molto, osservato molto preoccupato negli ultimi mesi sul mercato quando facevo i video, io addirittura se ragiono sul mio piano di accumulo dovrei sperare un altro anno, altri due anni, altri tre anni proprio di depressione totale, ad accumulare, accumulare, accumulare e dire diamine, non so, me ne trovo 100.000 accumulati in un mercato super depresso, adesso posso anche smettere di far crescere qui per quasi 30 anni da qui all'età pensionabile perché comunque hai messo una cifra così del genere in un mercato super depresso che non potrà fare altro che crescere, insomma sarebbe la cosa migliore, no? Ricordatevi sempre che i piani di accumulo sul mercato azionario funzionano veramente alla grande e ci faranno felici se nei primi anni l'azionario va male, quindi dobbiamo sperare quello in realtà. Io non vi rubo più altro tempo, grazie per l'attenzione, iscrivetevi al canale per sostenere il mio lavoro, lasciate un bel like per fare altrettanto, io come sempre, lo sapete, vi auguro il meglio nella vita e negli investimenti. Ciao!